Per il bar il primo ostacolo verso la scalata in Serie B si chiama Potenza. L'avventura in campionato per gli uomini di Mignani dunque parte lontano dalle mura amiche. Un dettaglio su cui si è soffermato il direttore sportivo bianco-rosso Ciro Polito che ha così commentato la partenza del torneo. Quel che non mi piace è giocare tre partite delle prime quattro fuori casa. Di certo non è un vantaggio. Il finale? I finale possono essere importanti ma non si può mai sapere come le squadre arriveranno al traguardo. Ad ogni modo questo è il calendario, lo prendiamo e cercheremo di fare del nostro meglio puntando a dimostrare da subito chi è il Bari superando anche questo avvio complicato. La costruzione della Rosa per affrontare la stagione è ancora in alto mare. Il presidente Luigi De Laurenti si ha chiarito che per acquistare i rinforzi bisognerà prima cedere i calciatori in esubero, al momento riparto in emergenza resta la difesa. Ci sono caselle vuote però anche a centrocampo e per gli esterni. Tornando al mercato in uscita Stasi come dicevamo ieri è passato al Picerno mentre sia Nannini che Corsinelli passano alla Lucchese in formula definitiva. Gigliotti e Schiavi restano nel mirino del direttore sportivo con la ciliegina sulla torta Rodriguez attaccante svincolato dal Chievo che nonostante le smentite potrebbe essere sempre nel mirino del direttore sportivo Pulito.